Victor Laszlo88 con gli occhi a pala per la stanchezza e Paolo Zelati con il simple verde chiodo, come potete vedere. Siamo in tema di animazione oggi, cosa stiamo andando a vedere? Stiamo andando a vedere le 5 leggende di Peter Ramsey, prodotto da Guillermo del Toro, quindi state con noi. Che dire, questo film mi ha sinceramente molto colpito perché innanzitutto è uno dei migliori film della Dreamworks degli ultimi anni, la trama è simpaticissima, tu non sei d'accordo, lo so, lo so che non sei d'accordo. Mi è piaciuto molto perché innanzitutto è molto originale, ci sono queste 5 leggende, come dice il titolo, 5 personaggi del folklore, che può essere folklore europeo o americano, che sono appunto Babbo Natale, Conigliato Pasquale, Jack Frost, che da noi non è particolarmente conosciuto, Sandman e La Fatina dei Denti, e ci sono dei doppiatori illustri a dare le voci, c'è Alec Baldwin per Babbo Natale, Chris Pine per Jack Frost, che è il protagonista morale della vicenda, anche se è un film un po' corale, Joe Jack per Il Conigliato Pasquale e Hila Fisher per La Fatina dei Denti, lui non parla, potete vedere, è bello cicciotto e pacioso, e mi ha colpito particolarmente perché innanzitutto io sono rimasto abbastanza deluso dal film della Pixar di quest'anno, The Brave, e ho preferito questo perché l'ho trovato la trama un filino più originale, perché mi è piaciuto di più, anche se naturalmente, come tu giustamente mi hai fatto notare prima in sala, è molto canonico, è un film comunque per bambini, ci sono sempre i valori di amicizia, di fratellanza, che sono tipici di questi cartoni, ma sono rimasto piacevamente colpito soprattutto per le scene d'azione che sono veramente ben fatte per un 3D che una volta tanto funziona. L'ho trovato anche abbastanza colorato, perché di solito spegne molto i colori il 3D, quindi devo ammettere che mi è piaciuto. Tu che cosa ne pensi? Ma io sicuramente Le Cinque Leggende è un film molto divertente, che sfrutta questi personaggi mitologici in maniera originale, certo sarebbe stato meglio forse secondo me utilizzarli in maniera più originale, per esempio The Boogeyman, il cattivo del film, è un The Boogeyman, è un uomo nero che fa poco paura, sia per come è disegnato, per quello che fa, questo avrebbe potuto essere veramente un cartone animato horror, invece rimane, come appunto discutevamo oggi, un film soprattutto per un pubblico più giovane. Tu citavi Brave della Pixar e sono completamente d'accordo con te perché Brave non è un film Pixar come noi siamo sempre stati abituati. Notare, la Pixar ha raggiunto delle vette assolute da un puntista di animazione, però secondo me la caratteristica migliore, principale, che segnava la targhetta Pixar era la sceneggiatura. John Lasseter ha sempre detto, per esempio, che io un progetto lo coltivo anche per tre anni, finché ho la sceneggiatura migliore in assoluto. Invece Brave è un film Disney dal punto di vista semplicemente dello sviluppo. Non brutto, ma assolutamente anonimo. E Le cinque leggende è migliore di The Brave, però ha il fatto di non essere un film con la doppia lettura, non ha un secondo grado di lettura, non va a colpire anche quel pubblico adulto che invece i film Pixar incuriosiscono con le citazioni, con tutta una serie di citazioni, non solo citazioni di film, ma citazioni proprio strutturali, da come Cars che cita tutta l'epica americana, la frontiera, e quindi insomma, detto questo, certo, è un film comunque divertente che probabilmente non deluderà un pubblico che cerca determinate cose, ecco, però secondo me si poteva fare qualcosa di meglio rendendolo forse più adulto. Se mi permetti una cosa, ecco, forse The Brave le animazioni erano migliori, perché la Pixar sicuramente le animazioni migliori della DreamWorks, però l'ho trovato superiore a quello, almeno questa volta. Ah, è vero. In realtà DreamWorks supera, secondo me, la Pixar. Sì. Per uno dei rari casi come la... Speriamo più che altro che la Pixar torni la Pixar. Sì, perché sono già due anni che è... Eh, sì, eh sì. Ricordatevi che abbiamo un account Facebook e Twitter di Festival Cube, e se ci seguite potete vincere un'anteprima al giorno per un film qui al Festival del Cinema di Roma. Dove potrete anche incontrare noi, quindi proprio una botta di fortuna scandalosa. E iscrivetevi al nostro canale Festival Cube. Ciao. Adesso state con noi. Ciao. Ciao.